Grandissimo gol di Darmian su Crassi Di Marco, spizzato da Taremi che non fa una prestazione sontuosa ma comunque mette lo zampino anche in fase difensiva. Il Lecce si presenta a Milano per cercare di non fare eroe difensivi ma ne commette parecchi. Di Marco prova al dodicesimo di nuovo a impensierire la porta leccese e Barella prova a fare il secondo gol. È stato un Inter a tratti un po' stanca, a tratti un po' scolastico, un primo tempo che qualcuno ha definito noioso, nel secondo tempo ci sono state molte molte più azioni però ho visto un Ceronogro pimpante, un Turam che oggi è leader, un Taremi che ha cercato in tutti i modi di presentarsi con un gol, è un uomo squadra, è molto forte, Turam dicevo il migliore, si procura un rigore sul quale i Vermicani e i Rossoneri hanno già da dire ma il rigore è veramente nettissimo perché comunque la trattenuta è disinteressata dal pallone, lontana da tutto quello che può essere un intervento regolare, quindi viene buttato giù, asfaltato, placcato Turam e di nuovo Ciala dal dischetto implacabile. Decide una partita che l'Inter stava per mettere in leggerissima difficoltà. Abbiamo visto una grande parata di Sommer, forse l'unica quella sul 2-0 con una parata mi pare su Berisha con la palla che probabilmente non sarebbe finita in porta ma grande parata, quindi Sommer torna a essere Sommer, qualcuno lo ha infamato. Darmian, ricordo ancora i video di qualcuno che lo hanno infamato, è venuto qua per 2 milioni e mezzo e oggi è un giocatore straordinario, cioè fuori dall'ordinario per la cifra che lo hai pagato. Dopodiché qualcuno è pro Danfris, qualcuno è pro Darmian, io sono pro Inter quindi mi va bene quella fascia. Dunfris vorrebbe giocare di più, ha un sacco di estimatori come me, ha un sacco di detrattori come ce ne sono in giro. Direi che la fascia va bene, l'Inter tira in porta 3 volte, il Lecce 4, però il processo palla è devastante in favore della nostra squadra. Ora vediamo un po' di pagellare questa partita. Intanto il Lecce di Gotti viene cercando di limitare i danni e fa una partita secondo me normale. Come fa una partita normale l'Inter? Tra l'altro Ramadani e tutti gli altri ragazzi albanesi giocano bene al calcio ma mi aspettavo qualcosina di più. Ovviamente l'Inter parte in questa partita strafavorita con quote clamorose, torna alla formazione quasi tipo tranne l'assenza di Lautaro che non è da sottovalutare perché Lautaro può essere un elemento che alla lunga manca. Invece Taremi fa la sua parte. Turam è cresciuto tantissimo. Occhio a questo Turam perché questo Turam, io stravedo per Osimen, ma può mangiare la testa. Mi mangi la testa sia a Osimen che a Lucazzo che ha un sacco di calciatori. Turam sta diventando un calciatore talmente forte che non capisco perché negli ultimi tre giorni di mercato non ci arrivi un'offerta da 100.000. Ovviamente spero che l'Inter nel caso si presentasse rifiuterà, però Turam è un calciatore che si sta dimoscrando pazzesco. Non dico che faccia reparto da solo ma tiene insieme la baracca. Bravo Sommer, dicevo bravo a Cerbi che ha migliorato molto rispetto alla partita scorsa. Siamo molto lenti, siamo molto appesantiti. La preparazione pesa però bene, bene, bene. O meglio, meglio a Cerbi. Bravo combattivo. Bermian l'abbiamo già detto. Pavard, bene. Comunque quando c'è Pavard hai una sicurezza. Mi viene su un Gasperini perché fra 5-6 giorni giochiamo contro la Taranta e non sarà così, non sarà come adesso, sarà una partita molto, molto, molto impegnativa perché qualche taglio il Lecce l'ha fatto, qualche situazione in cui ci siamo fatti trovare un po' addormentati c'è stata, però insomma tutto fa parte di una partita di inizio agosto in casa in cui ci riscattiamo, in cui andiamo nella normalità, siamo primi in classifica, abbiamo fatto fino a chi giocherà dopo. Non abbiamo fatto figure di merda che ha fatto il Milan, non abbiamo un attore che è già praticamente, non mangia neanche le castagne secondo qualcuno, quindi non siamo nella situazione della Juve che deve per forza vincere questo mercato che non si capisce poi lo valuteremo, non siamo nella situazione del Napoli che a Verona ha fatto un secondo tempo ridicolo, non siamo nella situazione di altre squadre. Ovvio che con l'Atalanta, vedremo come giocherà la prossima dopo domani o domani, dopodiché sfida diretta a San Siro contro una squadra che qualcuno definisce come l'anti-Inter. Ora ci manca solo che prendano Juan Quadrado, hanno ceduto Musso, o meglio hanno prestato Musso, non ho capito con che formula, all'Atletico Madrid, appena Musso è entrato in forma è andato a giocare a Madrid. Comunque vabbè, l'Inter costruisce comunque in maniera ordinata, in maniera un pochino scolastica e i gol e anche il rigore nascono entrambi dai cross e a volte quando tutte le azioni nascono dai cross qualcuno dice boh. In realtà qualche azioncina dritta per dritta l'abbiamo fatta, però manca la propulsione comunque da centrocampo. Allora, vediamo le altre pagelli, dicevo Cianoglu molto dinamico, Barella quello che conosciamo leggermente un pochino sotto tono, Michitalianda a panchinare, non è assolutamente in condizione, gli capita un tiro sul destro, la spara fuori di brutto. Farei giocare Fatesi anche se oggi è impattato non tanto male, non tanto bene dicevo, male invece Aslani che entra, poverino, a partita sempre iniziata, a partita quasi decisa e spesso fa cose non da quello che è il suo valore sul mercato. Per quanto riguarda Augusto, poco da dire, davanti entra Arnautovic che invece si fa vedere per la generosità, per la fisicità, per l'occupazione fisica di uno spazio dove tiene bassi i giocatori del Lecce. Voto a San Siro 10, tutti presenti, pubblico delle grandi occasioni anche a fine agosto. Maglia, tutti contro questa maglia impresentabile, per me è una delle più belle perché è tutta nera azzurra anche in pantaloncini, con lo scudetto cucito ed è la prima maglia con le due stelle. Nessuno, anche lo stalker che saluto, che mi ha scritto che maglia di merda, guarda che maglia. Non puoi dire che la maglia con lo scudetto a destra e le stelle e comunque una serie di sponsor che portano grano. Questo logo dell'Inter in mezzo, Nike, non puoi. La maglia delle due stelle va rispettata perché qualcuno non ce l'ha e quest'anno non credo che ce l'avrà. Ripeto, Inter che secondo me torna nella sua normalità pur facendo una gara fisicamente sotto tono, a volte un po' prevedibile, ma la preparazione sappiamo come è stata abbastanza dura. Sono tranquillo, qualcuno ha già cagato il cazzo per il rigore che era nettissimo. Qui sto vedendo in diretta Marelli che spiega il motivo della decisione. Ripeto, bene. Non mi viene in mente altro. Quattro punti con Lecce e Genoa secondo me sono un po' pochi, però mi sembra che il Genoa mancava poco e è andato ad espugnare il Brianteo, mi spiace, perché io comunque tifo tutte le squadre lombarde, però vuol dire che il Genoa, a cui mancano 250 milioni di pezzi, qui stanno facendo rivedere il tocco di mano di Pavard, io ho il volume basso, ma evidentemente è stato giudicato assolutamente involontario, c'è un cross e la palla gli arriva addosso, c'è un rimpalo vicinissimo tra Pavard e Darmian e poi gli arriva sul petto. Quindi andate a fanculo voi e tutte queste robe, queste recriminazioni. Inter a ritmo lento che inizia una stagione in maniera tranquilla con San Siro pieno, adesso la birretta, mi raccontano di un San Siro con troppi pochi servizi per il bere, troppi pochi servizi anche per i bagni, continuano ad aumentare il biglietto e continua a non aumentare. La qualità di San Siro, io lo dico da tifoso, lo dico anche all'Incer, lo dico al Comune di Milano, avete un sacco di soldi, lo stadio è sempre pieno, deve cambiare, se lo stadio è pieno vi dovete svegliare, i bagni devono essere sistemati, devono essere degni e vignitosi, più una cosa è bella e più è rispettata. Rispettate i tifosi, rispettate lo stadio, se c'è caldo fate in modo che qualcuno possa vendere, guadagnare da bere, qualcuno possa consumare e bere senza fare code interminabili. Parcheggia 20-30 euro fuori da San Siro, sono una rapina, perché sono una rapina, credo che il calcio del popolo non esista più da tanti anni. Parcheggiate lontano e risparmiate, per il resto, ripeto, non va assolutamente bene questo stadio che non ha spazi laterali, poi per tutto quello che è la visibilità che ha San Siro nel mondo e la visibilità che ha uno all'interno dello stadio, San Siro dovrebbe essere replicato così com'è, però insomma ci tengo anche a raccontare quello che mi scrivete voi e che io conosco benissimo, perché di solito vado al secondo blu nel mio posto, se no quando mi invitano vado in tribuna o arancio o rossa, al di là di quando ci sono gli inviti degli sponsor, anche se in tribuna rossa vai in certi cessi, il primo rosso dove poi lì c'è il bar, anzi saluto gli amici dei ragazzi del bar di San Siro che mi conoscono e quando vai al cesso c'è solo da vergognarsi, è una cosa schifosa, bambini, donne, anche l'Inter fa un sacco di filmati con i bambini e le donne e poi ci sono dei cessi che, non lo so, cazzo, vai in bagno e ci sono i ragni in violino, dai, dovete rifare i bagni, dovete fare in modo che sia dignitoso andare a prendersi qualcosa da bere e andare in bagno, perché se no fate i filmati, io so chi fa i filmati, vi voglio bene, però ok, non parlo solo dell'Inter, parlo anche del Milan, del Comune di Milano, cercate di fare in modo che almeno, la dignità nasce in questi posti, ho visto i cessi di Marassi che mi hanno mandato poi i ragazzi, sono gli stessi cessi che frequentavo quando andavo io a Marassi, erano gli anni 80, mi ricordo trasferte con la Samp, perché il genere è in B, mi ricordo le Coppa Italia con Mancini, mi ricordo trasferte poi anni 90, nell'epoca di Sosa, Shalimov e i cessi erano sempre uno schifo, poi vabbè comunque, forza Inter!